Buonasera a tutti, grazie a tutti. Grazie per l'invito, grazie al Presidente Righi che è un Presidente che ho avuto modo di conoscere. In fondo però bisogna abbassare un po' i toni perché altrimenti poi molti colleghi si lamentano, scusa Antonio, che non sentono. Grazie. Grazie a tutti. E' bellissimo, dove parlavamo di formazione, valorizzazione. Noi siamo felici come Università, e vi porto il saluto del Presidente dell'Università Mercatorum, di far parte di questa associazione, di avere una convenzione con voi, di aver laureato Presidente già 11 vostri associati. Perché è bello quando si parla di valorizzazione, di professionalità, ed è giusto combattere l'abusivismo, che è un problema in queste categorie e in tante altre, con valorizzazione, professionalità, competenza e rinnovamento ogni giorno delle proprie competenze. Quindi vi ringrazio molto, vi faccio tanti auguri, siamo felici di avere una convenzione con voi, di aiutarvi nel vostro percorso, perché voi siete importanti, perché gli italiani, e anche io anni fa lo feci, vi consegniamo i nostri sogni, le nostre aspettative, i nostri sacrifici, e quindi è giusto che li consegniamo a persone che ci credono come voi, a persone che hanno professionalità, che si impegnano ogni giorno, quindi vi ringraziamo, vi ringraziamo come cittadini e io vi ringrazio come Università Mercatorum, vi faccio tanti auguri per i prossimi, non i miei primi 40 anni, i prossimi altri 100 anni, saluti dalla Università Mercatorum, grazie a tutti voi, auguri e grazie Presidente. Grazie Avvocato Bottorivo, grazie.